Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con una breve lezione e prima di iniziare voglio ringraziare e dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahawa nel nome di suo figlio e nostro re salvatore e rendentore, Yahawa Shai, e miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone GMS per avermi insegnato questa verità. E come sempre saluti agli eletti della Casa di Israele, a coloro che stanno lavorando nella vigna in questi ultimi giorni e coloro che stanno sinceramente cercando la verità. Eccoci qui con, diciamo, ho visto i giornali da poco, ho visto le morse e i nuovi aggiornamenti riguardo il macino, ok? E non voglio dire, avete capito già che cosa è, se no mi bloccano il canale. E ho visto questo articolo e volevo condividerlo con voi. E questo è di oggi, è un articolo proprio di oggi, 22 dicembre, come vedete, ed è la Repubblica. E dice, dice, quale parola uso qui? Dice, virus, infermiera, OSS, ricercatrice e due medici. Ecco chi saranno i primi cinque macinati allo Spallanzani. Andiamo a leggere. Ok, e dice qui, i cinque dipendenti dell'Istituto di Malattie Infettive riceveranno il preparato ZIFA il 27 dicembre. Mattarella, su suggestioni macini, ruolo determinante, difesa. Ok? E dice, saranno un'infermiera, un operatore, un socio sanitario, una ricercatrice e due medici dell'Istituto Nazionale di Malattie Effettive e Spallanzani di Roma, e i primi cinque a ricevere il macino contro i COVid nel primo giorno, ovvero domenica il 27 dicembre. A comunicarlo è stata la direzione dell'Istituto. Ok? Mi fermo qui un attimo. E vi faccio capire che questo è l'ennesima inganno. Come fanno ad ingannare la massa? Ok? Mettono davanti delle persone di una certa classe della società e li mettono come esempio. Per far sì, così gli altri la faranno anche. Dicono, se loro lo fanno, vuol dire che anche io lo devo fare. E' il stesso inganno che stanno facendo negli Stati Uniti. Ok? E hanno messo, sì, delle persone di una certa classe della società e primi a prendere questo macino. Ok? Ma vi metto in guardia che noi che siamo un po' nella verità, il padre ci ha fatto capire che maggior parte di quei numeri, loro non stanno neanche prendendo il vero macino. Stanno prendendo una cosa che si chiama il placebo. Ok? Andate a guardarvi bene la parola placebo. Ok? Che cosa vuol dire? Ok? Per non dire che alcuni stanno prendendo il macino proprio, non lo prendono infatti, fanno degli inganni. Poi dopo metto un paio di foto. Ok? Anche se le scritte sono in inglese. Vi metto, per farvi vedere questi inganni che fanno, che non lo stanno prendendo davvero. Li mettono come i marionetti, i zembelli, ok? Per far prendere il resto della massa, ok? Perciò non fatevi ingannare. Non dite perché lo fa un ricercatore, lo fanno gli operatori sociosanitari, anche voi lo fate. Sono dei bei inganni. Ok? Ora andiamo avanti, che questo è il punto più importante che volevo farvi vedere. Le 9.750 dosi del macino Zifa destinati al nostro paese partiranno dal Belgio e giungeranno nell'ospedale romano, da dove l'esercito le prevederà per distribuirle in tutte le altre regioni. L'esercito le prevederà per distribuire in tutte le altre regioni. E se guardate bene la vostra TV, vedete i giornali di oggi, basta mettere nel canale MSA24TG là e sentirete quello che ha detto Mattarella e il ministro della difesa, ok? Stanno mettendo nelle strade, ok? I militari saranno loro a somministrare questi macini qua. Saranno loro a portarceli, ok? E quando arriva a questo, vuol dire usare le forze, ok? Poi la maggior parte delle persone non stanno capendo quello che sta arrivando. Come vi ripeto sempre, questa parola si chiama gradualismo, un passo a volta. Abbiamo cominciato a parlare di questa roba qui quando nemmeno parlavano del macino, ok? E state vedendo, tutto quello che dicono in TV oggi è il macino. Ora andiamo velocemente alle scritture. C'è questa scrittura molto importante che hanno tolto dalle scritture italiane. Perciò non la troverete in nessuna delle scritture italiane. E il secondo libro di Esdra, ok? C'è il primo e il secondo libro di Esdra, sono stati eliminate da tutte le scritture italiane perché hanno un sacco di cose che vi apriranno gli occhi. E c'è questo capitolo 16, versetto 71. Ho copiato quello che c'è scritto e lo porto nel traduttore per farvi capire cosa c'è scritto. Eccoci qui. E dice, Saranno come pazzi, non risparmiando nessuno, ma ancora rovinando e distruggendo coloro che temono i signori. Perciò saranno come dei pazzi, ok? Usciranno come dei pazzi. Non sentiranno nulla, ok? Cominceranno a rovinare chiunque non prende questo macino e soprattutto, ok? Coloro che temono il Signore perché siamo noi il loro bersaglio, ok? E per darvi una prova più concreta, andiamo nel libro di Apocalisse, capitolo 12, inizio leggendo da versetto 12, che dice, Esultate, dunque, o cieli, e voi che li abitate. Povera terra, invece, e povero mare, il diavolo è piombato fra voi, pieno di furore, perché sa che non gli resta più molto tempo, piomberanno i diavoli, con furore, perché sa che non gli resta più molto tempo. Ecco, perché le cose stanno andando molto veloce. Vogliono somministrare questa roba qui e lo scopo è quello di macinare tutti entro la primavera, ok? E se voi prendete questo macino, come ho fatto altri video, questo va a sedare in un gene dentro di voi, che si chiama la V-M-A-T-2, che si chiama, così chiamato, gene di Dio, una volta sedato, quando vi propongono il marchio della bestia, che è il microchip, non riuscirete a rifiutare, ok? Siete stati avvisati? Spero che questo breve messaggio possa edificare qualcuno e dico tutto questo nel potere, nel nome grande, magnifico del padre Yahweh, nel nome di suo figlio Yahweh Shai, nostro re e rendentore, ok? Mi do più onore agli apostoli, anziani della Great Mew, Stongi e Mes, per avermi insegnato questa verità, e Shalawam, a Yeleti, della casa di Israele. Alla prossima!